Bella a tutti ragazzi, siamo qua finalmente in un nuovissimo video Oggi vi portiamo Resident Evil, ma con me ho un ospite speciale, mio padre Ciao a tutti Dove appunto giocherà lui con la webcam, visto che me l'avete richiesto in tantissimi Farà anche le peggiori azioni in questo gioco Spero che appunto come serie vi piaccia ragazzi, perché ci sto mettendo tantissimo impegno Nulla, ci becchiamo direttamente al video Ok ragazzi, eccoci finalmente, siamo nel gioco Adesso io, ovviamente, passerò il controller a mio padre, perché ovviamente giocherà lui E con cosa vuoi fare la storia, quindi con che personaggio vuoi iniziare la storia E incominciamo con Leon Perfetto, allora vai su storia? Diciamo Storia Ok, fai il nuovo partito ovviamente Ok, Leon Sì, mettiamo standard Standard Ok Io all'inizio, prima gli ho fatto volare un pochettino il gioco Per vedere anche, abbiamo sistemato un po' di impostazioni, luminosità eccetera eccetera Senti, dico sul serio, ok, l'ho visto con i miei Oh, ma ti credo ragazzo, ti credo Raccontaci, com'è andata, coraggio Ok, beh, lo scorso venerdì sera Stavo tornando a casa dal bar, e all'inizio non c'era il male Buona giornata Non abbiamo mai visto niente del genere Allora non riesco a dormire Coraggio, calmati bello, rilassati Una bella autoradio nuova, nuova Fizzetta Ok, forse hai ragione Se vai nel panico vicino a quelli che affondano i denti nella carne Ti avvicano i miei occhi Avanti, sono più bello Devo riposarlo Attendo, attendo, attendo Mamma mia, ed è finita Ok, la può buttare, la può buttare La prima persona Dopo tanti chilometri La prima persona è stata Decapitata E conviene sempre Come si dice Non insultare nessuno Vai dietro E scappa Corri Ma vattene a casa Vai a guardare dietro Ti avevamo avvisato Ti avevamo avvisato Che sono cazzutoi stavolta Ecco Arrivano i rinforzi Mi devo mettere questo gioco ragazzi Una bella grafica Una grafica eccezionale Veramente La benzina verde Non c'è nessuno E questa Ci sono macchine Macchine della polizia Vuota Para aperto A mezzanotte Per dire Ecco Non entrare Deficiente Ti sembrava La macelleria è aperta Quest'ora Ammazzata La persona Esploriamo l'aria Guarda di intorno Perché se no Ti fa saltare Il tutorial Ok E appunto Che ci doveva essere Nessuno Perciò Andiamo A prenderci un hamburger Hamburger Molto Molto buono Comunico A mezzanotte Ci sa Ovviamente Mi stai ritirando a casa Il fanno Non c'è nessuno No Non c'è nessuno Vattene a casa Esplodiamo Esplodiamo Nessuno Al mercato C'è qualcosa Che non fa Io direi di andare a casa E devi perlustare Develo stare Per forza Andremo a andare a casa E va bene Già sento dei rumori Un pochettino particolare C'è qualcuno Che Non ti stai sbattendo Non è che devi andare Andrò la cella Fivorifra Voi indietro No no Come no Andrò Andrò a casa Non aprire quella porta Deficienti Non aprire Quella porta Oh aiuto Amma mia Poverino Poverino Mi sono le ciambelle Sento dei rumori strani Ci sarà qualcuno Che mi darà un mosso Sta bene? Lascialo stare Lascialo Tenga duro Torno subito Tenga duro Che torno subito Domani si ritorna Tondo Ce n'ha C'è una Bellissima porta E sicuramente Io dovrei Andarmene a casa Ma siccome lui Non ascolta Che è un deficiente Che succede? Stia dietro Non si avvicina Ehi Non si vede Non si vede Partano a casa Che schifo Ma che è Sassiccia Ma non è Quando che c'è Non muoviti O sparo O sparo Ma che Ma che cao Ehi E che schifo Eh E' pieno di ketchup Dovrebbe essere Dovrebbe essere Ma che ci manca Una gamba Ma che schifo E' di Del tizio E' del tizio Ho capito Però Qua dove sono Non mi è andata a casa No Non devi tornare indietro Qua sei tornato Penso che devi esplorare qua dentro Io non mi è andata a casa Io non mi è andata a casa Tu te andresti Però vi vedi il gioco Non puoi Vedi Qua Tira bocca Piccato Ah no Devo andare a prendermi Una chiave Sicuramente No 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 Fai B Fai B Andiamo B B Un'altra volta Ok Ritorniamo Vediamo cosa troviamo Dobbiamo esplorare E trovare una chiave Ma è qua Ma sei a mio gioco Che è morta Ma è per destra Tipo quando ve lo puoi sentire Ok hai visto Qua c'è una stradina Non è resistente No Ecco la chiave Ok Aspetta Premiamo A Ok grazie Ok Si conferma No non è fermo Clicca Clicca di nuovo Ok Apri l'inventario Ora c'è la chiave Va bene Passiamo Ma però Un'occhiata scusa Interessante E' una bella pizza Margherita Che schifo Ma è una bella Ma dai lo zombie Un pezzo c'è No lo zombie non c'è più Impossibile Ma è vivo Ma Non può essere Stai inzaccando Guarda Stai inzaccando Guarda 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 Si va bene Oh ca Non è fermo Unizione Complimenti Vedi Sei lì Quei del mondo Che si può rancare No Se vado lì Lui E ora Lo faccio arrivare Qua sinistra Qua sinistra Ora Lo faccio venire Un pochettino Più avanti Ok E tu Lo soppassi Di qua Desso Lo soppassi E te l'ho detto io Che è un estruso Questo Maledetto No Stai inzaccando Stru No Strudel Non di chiudere Guardate Anche Sì Ti si chiuse Qua dentro Oh Ma che cosa ma c'è la porta con la chiara che sta facendo? no ma non è ti avevo detto io devi andare dritto ma è di là lo zombie l'hai ucciso con 10 coppi devi andare qua dentro a destra vai sulla chiave vai sulla chiave ok clicca ok 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 ma di nuovo c'è sto strozo qua è il pericolo 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 tutti quanti stanno mangiando ma che schifo devo andare all'ospedale sei morto è uno schifo scusate ragazzi ma siamo alla macelleria urbana ora vai vai avanti nooo ma di nuovo tutto da cavo vai vai mi raccomando stia indietro non si avvicini ah ma che cazzo mamma mia e' merda di lover non muovesi o sparo vai ok un altro no basta basta un altro corpo non è vero un altro ah che schifo vai a destra vai a destra no 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 vai a destra corri 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 vatti a prendere la chiave qui a destra ok vai tutto dritto qui c'è la chiave prendi A picca I A no mi ricordo tre volte A vai indietro va bene vai indietro subito ok vai a sinistra è la prima subito a sinistra sembra un navigatore satellitare è la prima a sinistra sembra un navigatore satellitare ok va bene che chiamano prendiamo vai a usa e getta ora ora apri tu devi ficcare qua sinistra dritto e tu mi ho detto a sinistra e vado a sinistra e tu mi hai detto a sinistra e tu mi hai detto a sinistra e tu mi hai detto a sinistra e muori di Schrudel no sparare abbassati Andiamo, andiamo a prendermi, certo, e io sono scarso, sì, penso di sì, grazie, ringraziami dopo, una volta salvi, particolare, ecco, ma che bella gioventù, ragazzi, andiamo a disco nera, e poi, andiamo, e andiamo a casa, finalmente, ce l'abbiamo fatto, uscire da un negozio, che schifo, madonna mia, ma che succede? Non lo so, forse alla centrale sapranno dirci qualcosa, sì, è rimasto qualcuno io, sì, Leon Kennedy, e tu? Claire, Claire Reddick, è una bella scelta, vivi qui? No, cerco mio fratello, è un poliziotto, beh, per fortuna ti ho incontrata, ormai non so più cosa aspettarmi, Attenzione a tutti i cittadini, a causa dell'epidemia in corso, vi invitiamo a rifugiarvi presso la centrale di polizia di Rapun City, cibo e medicinali verranno distribuiti a chiunque ne abbia bisogno, oh mio Dio, non posso crederci, la centrale di polizia è vicina, ci diranno qualcosa, Sì, ma se fossimo rimasti soli, gli unici sopravvissuti, qualcuno è sopravvissuto, la città è grande, non siamo soli, non è positiva, non è negativa, non di fatto, la città è grande, hanno tutte le zone, dovremo camminare da qui, eh, ci vediamo, un bel sfondino serale, meglio correre, eh sì, buona idea, torniamo indietro, a me non c'è già le reports, che fai? ah, quel povere, vai in ferro, esci ora? ero ancora in senso, non riesco! non riesco! teniti forte! ti negoziare, proprio c'è lì! e non riesco! quello che ti pare ha, se non prima era morto? ora è di fondo. aii, Ehi, Claire! Merda! E dove è Claire? Claire! Claire, stai bene? Sì! Tutto ok? Tu stai bene? Ecco, e ora... Non posso stare qui, non è sicuro! Vai avanti! Ci vediamo alla centrale! Sì, va bene! Ma... Tutto questo è assurdo! E allora... Devevo andare alla centrale! Scusate! Scusate! Scusate, ma non credo in tutto! Alla centrale dove è? Arcas! 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 Scusate! Scusate, dove erano? Scusate, dove erano? Ma sembra... No! Mi perdoni! Ma poi non c'è... Come entrare! Scusate! 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 Vai provare ad andare qua, da questo dialogo! Sembra essere... No, no! Sì! Mi incastro lì dentro! Merda! Tutti! Si sono trasformati tutti! Scusate! Vediamo! Cosa troviamo qua sotto? Eh, sale e scende! Chi è? Ah, forse... Tipo sei dall'altra parte... Finalmente! La centrale! Oh, hai visto? Che fortuna! Qua... È chiuso! L'unica... Vai, 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 vai! Vai avanti! Mi faccio lasciare! Ma è questo! Devo ammazzare! Ma è questo! Devo ammazzare! Sicuramente mi ammazzare! Ok! Chiodi! 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 Ok! Ok! A lontana! Ok! Finalmente! Andiamo! Eh! Pronto il caricamento! C'è la gata! Ci puoi indistare! Va bene! Vediamo chi c'è qua dentro! È uguale... a quella della Play 2! Non so! Non lo ricordo! Ehi la! Non c'è nessuno! Ehi la! Spry medico! Spry medico! Buono! E questo è già buono! Questo te lo busti quando le scelle fanno un po'... Oh! Puzzetta! Lì c'è un computer! Ma anche di caca! Cacanetto! Oltre! Oh! Proiettili! Ok! C'è ancora qualcosa qua! Lì c'è un computer! Noo no! Sicuramente forse.. Beh, ti dicono tutta la storia di quello che è successo! Non ci deve essere qualcuno! c'era qualcuno magnati e te lo sono magnati ancora no la resta devo trovarlo messi ok si perché nessuno ma già fatto ben dietro va bene ragazzi io direi che per questo primo episodio ci siamo anche perché vorremmo portarlo appunto tutta quanta la serie spero che vi piaccia appunto come serie mi raccomando scrivetemi nei commenti se vi piace o comunque dei consigli se ci potete consiglio qualsiasi cosa ragazzi mi raccomando scrivete nei commenti iscrivetevi al canale condividete mi raccomando vi volevo anche avvisare che appunto a breve iniziano di nuovo le live per quanto riguarda fortnite per quanto riguarda anche apex legends quindi mi raccomando non perdeteveli anche se non ci sono che comunque youtube o twitch non manda le notifiche vi invito a controllare comunque costantemente il mio canale perché fra non molto inizieranno appunto le live di svariate ore quindi mi raccomando non perdeteveli e niente ragazzi io direi che per questo episodio appunto è tutto alla prossima sperando che sia diciamo più continuo e con qualche oretta direi se tende veli due va bene ragazzi ci becchiamo la prossima video la prossima live ciao ciao ciao